Buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. L'epidemia in Italia, in grave peggioramento, è necessario prendere misure. Questa è la drammatica analisi dell'Istituto Superiore di Sanità sulla base dei numeri dell'ultima settimana. In molte regioni ci sono diffusi segnali di criticità dei servizi territoriali. Il pericolo è quello di raggiungere presto soglie critiche per l'assistenza ospedaliera. Intanto oggi nuovo picco di contagi, oltre 19.000. L'Istituto Superiore di Sanità lo mette nero su bianco nel report settimanale. L'epidemia in rapido peggioramento con una progressione maggiore in alcune regioni. Sono necessarie misure con precedenza per le aree maggiormente colpite che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone che possono alleggerire la pressione sui servizi sanitari. L'RT, l'indice di trasmissibilità, è stimato ora all'1.5. Una tendenza che spiega i nuovi dati dei contagi. Sono 19.143 i nuovi casi da Covid-19 nel nostro paese. Ieri erano stati poco più di 16.000, con 182.032 tamponi processati. 11.640 in più rispetto al giorno precedente. Record assoluto. Ma l'incremento dei test non basta. Spiegare l'aumento dei casi scoperti sali di un punto anche il rapporto fra i positivi ed esami effettuati ieri al 9,5%, oggi è aumentato al 10,5%. Le regioni più colpite nel bollettino di oggi restano le stesse Lombardia con quasi 5.000 nuovi contagi, poi Campania e Piemonte. L'unico dato un po' meno grave rispetto ai giorni precedenti è quello delle vittime. Ancora altro, ma dopo due giornate consecutive con oltre 100 morti, ieri erano stati 136, oggi le vittime sono state 91. Accrescere ancora invece è la pressione sugli ospedali. Altre 855 persone sono state ricoverate con sintomi in totale più di 10.000 e in terapia intensiva viene superata la soglia dei 1.000 pazienti. 1.049 più 57 rispetto al giorno precedente. Temiamo un raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva in 15 giorni, dice Alessandro Vergallo, presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani. In questa situazione aumentano le regioni che hanno deciso chiusure notturne. Nelle prossime ore toccherà anche a Calabria e Piemonte, ma c'è un vero e proprio pressing di provvedimenti a livello nazionale. Li ha chiesti esplicitamente il governatore della Campania De Luca, che propone di chiudere per almeno un mese il governo. Per adesso prende tempo. Con l'aumento costante e importante del numero di contagi in tutta Italia, le regioni non aspettano le nuove misure da parte del governo e continuano a varare provvedimenti più stringenti sui loro territori. Così, mentre entra a regime il cosiddetto coprifuoco notturno imposto in Lombardia, Campania e Lazio, altre regioni si preparano ad adottare misure analoghe. Già deciso da domani stop anche in Calabria, da lunedì invece, per ordine del governatore Alberto Cirio, blocco notturno anche in Piemonte, regione ad altissimo rischio. Inoltre in Umbria vengono chiusi i centri storici, in Toscana i centri commerciali, a Palermo vietate le zone a rischio movita. Il più duro è il presidente della Campania, che chiede il lockdown in tutto il paese. Dobbiamo chiudere per un mese, 40 giorni, avverte Vincenzo De Luca. E poi si vedrà, ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere. Non voglio vedere la fila dei camion con le bare. Per un nuovo blocco in tutta Italia, comunque, non tutti i governatori sono d'accordo. Un appello all'unità arriva dal ministro per gli affari regionali, Boccia, positivo al Covid, reggeremo l'urto collaborando con gli antilocali. Anche se il suo collega Roberto Speranza è meno ottimista e continua a ritenere probabili chiusure molto più estese e radicali, e un altro ministro De Micheli precisa, non faremo alcun lockdown totale, ma stiamo prevedendo misure molto severe. Nuove decisioni del governo potrebbero arrivare già nel fine settimana, tra le ipotesi stretta sugli spostamenti, coprifuoco in tutte le regioni, serrate delle attività non essenziali. E c'è un'ultima ora che parla di guerriglia urbana per le strade di Napoli, questa sera dove centinaia di persone, molte delle quali incappucciate, hanno lanciato oggetti e bombe carta contro le forze dell'ordine sotto la sede della regione Campania, prima di cercare di superare il cordone degli agenti in seguito all'annuncio del lockdown regionale fatto dal governatore De Luca. Aggredite anche due truppe televisive, un militare è stato colpito alla testa, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul fronte economico c'era attesa per il giudizio di Standard & Poor's sul nostro paese, niente declassamento, il rating per il nostro paese rimane BBB, migliora da negativo a stabile l'outlook, alla luce del fatto che sostiene l'agenzia di rating statunitense, le misure economiche messe in atto da Italia, Banca Centrale Europea e Unione Europea offrono l'opportunità di riavviare la crescita e invertire il deterioramento dei risultati di bilancio. La decisione conferma la solidità delle misure eccezionali adottate dal governo. L'importanza del cambio di paradigma avvenuto in Europa ha commentato soddisfatto il ministro dell'Economia Gualtieri. Chiudiamo con il calcio. Quinta giornata di campionato per la Serie A, domani in campo Inter, Atalanta e Lazio. Stasera intanto è pari tra Sassuolo e Torino. Ancora la Roma nel mirino del Covid. Dopo di Avarà e Calafiori, positivo anche il difensore Mancini. Il virus non allenta la presa, ma il calcio va avanti, seppure tra mille ostacoli. La Juventus, con McKennie Guarito, ha terminato l'isolamento fiduciario e oggi è ripartito il campionato con il folle anticipo Sassuolo-Torino. Nella fitta nebbia di Reggio Emilia, Linetti realizza il suo primo gol con la maglia Granata, legittimando il buon avvio di gara della squadra di Giampaolo. Nella ripresa poi succede di tutto. Il tacco ravvicinato di Giuricic sorprende Sirigu, senza però frenare un toro, che continua a caricare a testa bassa. Le reti di Belotti e Lukic, segnate a distanza di due minuti, sembrano chiudere i conti, ma come a Bologna, il Sassuolo non si dà per vinto. Il preciso destro di Chiriches e il guizzo di Caputo, in appena 60 secondi, valgono il 3-3, che permette comunque al Torino di abbandonare quota zero in classifica. De Zervi invece salva l'imbattibilità, fallendo però il sorpasso al Milan capolista. E domani, la quinta giornata, prosegue con altre tre partite, Atalanta-Sampdoria, Lazio-Bologna e Genoa-Inter. Tra i nerazzurri di Conte, dopo Young, tampone negativo pure per Achimi, assente per Covid, contro il Borussia-Monke Gladbach. Ma per il via libera, l'esterno marocchino dovrà attendere l'esito di un ulteriore test effettuato oggi. Ed è tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. Grazie.